Ha colpito la madre alla testa per 24 volte e ha continuato ad inferire anche quando l'anziana era supina e inerme, usando corpi contundenti e taglienti. Diletta Miatello, 51enne, ex vigilessa di Asolo, dovrà comparire davanti al giudice per l'udienza preliminare per l'omicidio della madre Maria Angela Sarto, avvenuto tra il 26 e il 27 dicembre dello scorso anno, e del padre Giorgio Miatello, che è stato colpito anche lui alla testa e al braccio ed è morto due mesi più tardi a fine febbraio, non riprendendosi mai dalle ferite. Diletta Miatello, detenuta nella carcere veronese di Montorio, comparirà davanti al giudice per l'udienza preliminare il prossimo 5 dicembre, l'accusa di omicidio volontario, le liti con i genitori per le richieste continue di soldi scaturite poi nella furia omicida. La mattina del 27 dicembre la 51enne non aveva fatto entrare in casa la badante, poche ore dopo la scoperta della mattanza. Maria Angela Sarto, 84 anni, trovata in camera da letto al piano superiore, avvolta in un piumino, il corpo devastato dai colpi, al volto, all'addome e alle braccia. Diletta infierito con qualsiasi oggetto trovato in casa. Una furia poi rivolta anche contro il padre, che dormiva invece in salotto a causa di una caduta avvenuta qualche giorno prima. Giorgio Miatello, gravemente ferito, con un piatto decorativo, è stato portato in ospedale. Il lungo ricovero e poi la morte avvenuta il 28 febbraio. Diletta invece venne ritrovata sempre il 27 dicembre, mentre si nascondeva in una pensione di Romano Dezzelino.